Salve gente, io sono Luca e in questo splendido video volevo parlare del modo di dire ci vogliono i santi per andare in paradiso. Allora, questo modo di dire significa fondamentalmente che per ottenere determinati risultati c'è bisogno di persone importanti, cioè di personaggi che contano, personaggi influenti, che ti aiutino a raggiungere un determinato obiettivo. Quindi, per esempio, se tu partecipi a un concorso in cui viene selezionato il candidato migliore, spesso la situazione, almeno in Italia, è che poi in realtà non viene selezionato il candidato migliore, ma viene selezionato il candidato che è appoggiato da personaggi importanti, da figure che contano e, in ultima analisi, persone che determinano chi vince il concorso. Quindi questo detto significa fondamentalmente che per arrivare in alto, comunque per ottenere determinati risultati, spesso c'è bisogno di una mano da parte di personaggi influenti, perché altrimenti le porte, diciamo così, del paradiso rimangono chiuse e tu non ci arrivi non perché sei tu che sei stupido, ma perché non hai una persona che ti appoggi. Quindi questo detto si riferisce fondamentalmente al mal costume, alla corruzione, al fatto di far passare avanti gli amici degli amici, fenomeni piuttosto, diciamo, diffusi dalle nostre parti, no? Quindi il detto coglie a pieno questa situazione. Tu vuoi andare in paradiso, però senza l'approvazione dei santi, cioè i santi sarebbero personaggi importanti, personaggi che contano perché sono già in paradiso, quindi le persone ai vertici in alto, tu in paradiso verosimente non ci arrivi, se non ci sono i santi che ti spingono, che ti dicono che puoi andare, che ti fanno passare avanti rispetto ad altre persone. Ecco, fondamentalmente questo è il detto ci vogliono i santi per andare in paradiso. Vi saluto.